Ringrazio l'amministrazione che è sempre stata vicina col sindaco e la giunta in ogni momento e tutte le strutture del territorio sociosanitarie come il Policlinico e anche ATS che ci hanno affiancati in questo percorso di difficoltà, di criticità con la loro vicinanza e il loro supporto. Non ultimo ma senz'altro primo ringrazio il professor Filice. La scelta vincente è stata quella di inserire l'infettivologo, il professor Filice, il quale ha dato un input clinico alle nostre aziende. Un input clinico che è quello che è stato opportuno per la risoluzione proprio di qualche caso che si è manifestato all'interno e che ha portato alla guarigione di molti pazienti. Soprattutto quello che è l'esperienza della clinica che è stata trasportata in strutture che sicuramente avevano un'attrezzatura meno importante ma che si sono state da fare. Quindi il ruolo prioritario dei nostri medici, il ruolo sanitario del nostro personale infermieristico a cui va un doveroso ringraziamento e sostanzialmente una vittoria per tutta la città che vede rilucidare la zona di determinate strutture che alcune volte sono state anche messe in secondo piano per piccoli particolari. In realtà hanno dato una risposta molto importante di fronte a un evento di grande spessore. In questa situazione è emerso un sistema pavese che ha funzionato un sistema pavese che ha un presidio ospedaliero che di gran lunga si è confermato tra le eccellenze italiane e non solo italiane e ha un sistema socio-sanitario che è rappresentato da noi, dall'AFA ma anche da altre strutture un sistema socio-sanitario che è stato di compendio e di adeguato compendio alla struttura sanitaria perché comunque abbiamo lavorato per molti aspetti in sinergia rispetto alle strutture proprio ospedaliere e quindi sanitarie in senso stretto. Il sistema pavese di sanità ancora una volta ha funzionato, che c'è stata tra virgolette una sinergia perfetta tra università che io indegnamente rappresentavo, l'Ascola di Pavia e il San Matteo. Nessuno ha la sfera di cristallo. Io personalmente ho molto studiato perché mi interessava come dato l'influenza spagnola e guardate, ci auguriamo, è stata la seconda ondata della spagnola, quella che ha causato poi il danno notevolissimo ho un po' l'impressione che come si diceva col sindaco ci sia in liberi tutti e che si sottoponga le amministrazioni a fare delle pressioni che potremmo pagare a caro prezzo. L'ordinanza con cui il sindaco ha confermato la chiusura delle associazioni di promozione sociale rivolte agli anziani va proprio nel senso di tutelare la salute e l'incolumità pubblica ed in special modo delle persone over 65, persone che hanno pagato maggiormente questa epidemia e con questo provvedimento si vuole assolutamente porre al primo posto la tutela della loro salute. Sono dieci le associazioni di promozione sociale che sono sottoposte a questa ordinanza quindi di chiusura sino al 31 luglio, cioè sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria e questa decisione comunque è stata valutata e ponderata anche di confronto con i presidenti delle singole associazioni che sono state appunto riunite alla presenza anche del sindaco e con le quali appunto si è discusso un po' della possibile apertura o proroga della chiusura. Diciamo che anche i presidenti delle stesse associazioni nella maggior parte dei casi erano concordi e hanno ratificato quella che è stata la decisione dell'amministrazione proprio perché anche gran parte delle attività che vengono svolte in queste associazioni erano e sono tutt'oggi vietate, quale il gioco delle carte, la lettura dei giornali e il ballo di coppia che è uno dei must che viene praticato all'interno delle associazioni e pertanto il nome della tutela e della salute pubblica è stato appunto valutato e adottata l'ordinanza della dichiusura. Andiamo sempre sulla stessa linea, io non è che cambio opinione perché comunque in qualsiasi caso nonostante che alcune persone stiano contestando pesantemente le mie misure io sono convinto che stiamo lavorando bene, stiamo lavorando insieme persone che hanno grande esperienza che si sono distinte a livello internazionale per le operazioni che abbiamo fatto quindi oggi la presenza di aver qui quello che è stato il maestro del professor Bruno così come ha definito lui, quindi il professor Felice è qualcosa di importante che è stato determinante per far sì che l'unica RSA che non ha avuto problemi di vittime dal coronavirus è stata la nostra nell'ambito della nostra città, questo vuol dire eccellenza e questo viene dimostrato dal fatto che quando c'è passione nel lavoro che è una missione poi quella del medico perché non può essere nient'altro una persona che si dedica in pensione a fare questo tipo di operazione gratuitamente è stato determinante con la collaborazione del Policlinico San Matteo per ottenere questo risultato che è un risultato a livello eccezionale sappiamo bene cosa è successo in tanti altri istituti dove ci sono state catarse di morti qui in questa città non è accaduto, di conseguenza questo fa parte di come ho detto io il Brent Pavia dove la collaborazione, l'esperienza, la voglia di fare hanno sopravvento in questo caso hanno avuto sopravvento anche nel caso del coronavirus non sappiamo cosa accadrà più avanti, siamo discretamente preparati chiedo solamente che ci sia responsabilità da parte delle persone nei comportamenti questo lo dico ai più giovani, lo dico agli adulti, lo dico alla persona anziana e lo dico a tutti abbiate cura di voi stessi, questo vuol dire salvaguardare la vita anche naturalmente a tante altre persone di questo dobbiamo essere coscienzi, responsabili perché la vita è qualcosa di importante di questo dobbiamo essere coscienzi